Chiediamo che i punti di primo intervento nelle città di Minervino Murge e Canosa di Puglia vengano custoditi almeno sin quando non vedrà alla luce il nuovo ospedale di Andria. Per Spinazzola ci appelliamo al decreto che per le aree svantaggiate con distanze elevate dai presidi ospedalieri di primo livello prevede il mantenimento dei punti di primo intervento. Per la città di Trani richiediamo un presidio territoriale di assistenza per far fronte con l'arrivo dell'estate alle emergenze e ai bisogni dati dal numero sempre crescente di turisti. Sono le proposte presentate in una lettera che è stata consegnata personalmente al presidente della regione Puglia Michele Emiliano. A sottoscriverla i segretari dei circoli del Partito Democratico delle città di Canosa di Puglia Minervino Murge, Spinazzola e Trani che ora attendono l'incontro con il governatore. Nel corso della conferenza stampa organizzata presso la sede del PD a Canosa di Puglia pur rilevando come il territorio della BAT sia stato fortemente danneggiato e penalizzato dal piano di riordino ospedaliero non è stato comunque contestato il provvedimento ma esclusivamente le modalità temporali. Abbiamo voluto dare voce a quattro territori in modo particolare che sono quelli della città di Trani, di Canosa di Puglia, di Minervino Murge e di Spinazzola visto la prevista chiusura dei punti di primo intervento. Noi riteniamo che si possa procedere a tutto quello che è stato preventivato quindi non si contesta l'impianto strutturale ma le modalità temporali e cioè il fatto che bisogna evidentemente prima mettere in campo quelle che sono le azioni suppletive a fronte della chiusura dei punti di primo intervento quindi le ambulanze medicalizzate piuttosto che altro e magari posponendo queste chiusure nel momento in cui viene realizzato per esempio l'ospedale di Andria. Tutto può essere fatto, l'importante è che non ci sia un periodo di latenza di non copertura delle esigenze, di bisogno delle emergenze e urgenze in questo territorio. La BAT soffre strutturalmente di questo problema perché abbiamo il più basso indice di presenza di posti letto rispetto al resto della regione e rispetto al resto d'Italia. C'è la necessità da parte di questi territori di lanciare un grido d'allarme in modo tale che quello che è stato programmato si possa anche fare ma in tempi e modalità tali per cui non ci sia una deficienza una mancanza nel servizio di risposta al bisogno di salute della gente in caso di emergenza urgenza.